Lo Spazio Umano, corso integrato di geostoria e educazione civica, un nuovo manuale La Terza per il primo biennio dei licei. Un corso chiaro e avvincente, grazie alla grande esperienza nella divulgazione degli autori, gli storici Alessandro Barbero e Sandro Carocci. Il progetto, un corso integrato di storia, geografia e educazione civica, costruito sui temi comuni alle tre discipline, per comprendere il passato attraverso il confronto con il presente. Nel corso, i capitoli di geografia e educazione civica sono tematicamente collegati ai capitoli di storia. Nei capitoli di storia, un paragrafo di geografia o di educazione civica attualizza un tema di studio di storia antica. Sul rapporto tra passato e presente, otto interviste agli autori introducono i temi di studio delle parti e quattro capitoli speciali, dal passato al futuro, raccontano, attraverso i documenti, grandi temi della storia dell'umanità. Ieri e oggi. Epidemie e pandemie, vincitori e vinti, minoranze e persecuzioni, le grandi migrazioni. Alla ricchezza delle culture antiche, patrimonio comune dell'umanità, sono dedicate le rubriche dei capitoli, box tematici, documenti e vedere la storia, sincronie. Per l'apprendimento, con i capitoli ci sono strumenti di verifica rapida e di metodo per l'esposizione orale, con le parti, i laboratori delle competenze. Per le competenze in azione e lo sviluppo dello spirito critico, con i capitoli ci sono anche i laboratori di cittadinanza, con un'antologia di letture, e i laboratori multidisciplinari. Lo spazio umano, di Alessandro Barbero e Sandro Carocci, un corso per studiare geostorie ed educazione civica in modo integrato e orientare la formazione storica alla cittadinanza consapevole.